Dopo il video di ieri, un anno di borsa, alcuni di voi mi hanno detto, riassumo in maniera sintetica, ok ci hai detto come sono andate le cose sulle principali borse mondiali, ma questo lo sapevamo già, è più interessante invece che tu ci dica come andranno nel 2020. Certo, è vero, comunque capirete bene che non è proprio una cosa semplice. Se non proprio ecco delle previsioni, però almeno delle analisi sui mercati finanziari per l'anno che sta per incominciare, beh quelle si possono sempre fare, a posteriori poi ci troveremo tra un anno e potremo verificare se si è trattato di analisi corrette o meno insomma. Naturalmente la nostra analisi è rivolta all'investitore italiano, cioè a un investitore che almeno finora è all'interno dell'eurozona. Allora partiamo dal reddito fisso. Che anno sarà questo 2020? Beh, sappiamo tutti che c'è stato un cambio sulla poltrona più importante e più prestigiosa della BCE. Il nostro, poi mica tanto nostro, comunque lasciamo perdere, dicevo il nostro Mario Draghi ha lasciato la poltrona ad una francese, Christine Lagarde. Questo cambiamento ritengo che comunque non porterà ad una sostanziale, ad un sostanziale cambio di rotta, diciamo, della politica monetaria. L'operazione di quantitative easing con la quale Draghi ha salutato, beh è una operazione che non ha scadenza, o meglio, avrebbe scadenza finché quando l'economia, diciamo, dell'eurozona o il tasso di inflazione non daranno chiari segnali di ripresa. Possiamo dire che sarà difficile che ciò avvenga nel nel prossimo anno o comunque in tempi brevi. Mi sentirei quindi così di continuare a ritenere il mercato dei titoli del debito sovrano dei paesi dell'eurozona un non-mercato, ecco, chiamiamolo così. Insomma, se non è morto, beh, perlomeno l'encefalogramma è piatto. Quindi rimane un solo motivo all'investitore italiano per entrare in questo mercato. Acquistare dei titoli del debito pubblico tedesco, i Bund, è sperare che scoppi l'eurozona. Insomma, l'unico vero motivo per un investitore italiano che non vuole rischio cambio, beh, è proprio quello di puntare sul rischio cambio, insomma, cioè sull'esplosione dell'euro. Se invece vogliamo accettare il rischio cambio, ma quello vero, ossia investire sul debito pubblico di paesi che non sono, che non utilizzano l'euro, beh, allora a mio avviso il miglior rapporto rischio rendimento lo si ha se si guarda dall'altra parte del mondo, ossia l'Australia, la Nuova Zelanda. L'Australia è un paese che ha un basso debito pubblico all'incirca il 40% del PIL, quindi un paese molto solido, con un tasso di disoccupazione molto basso, intorno al 5%, un'economia che cresce a tassi superiori al 2%, quindi più dell'inflazione, tutti i dati positivi e quindi purtroppo, per l'investitore intendo dire, è anche lì nel 2019 i tassi si sono molto abbassati, oggi i rendimenti sono intorno all'1,5%, ma il tasso di cambio comunque del dollaro australiano intorno a 1,60% nei confronti dell'euro, ma io lo trovo a me sembra allettante insomma, lo trovo allettante. Al di là dell'Australia ovviamente rimangono sempre gli Stati Uniti, i rendimenti sono un po' più alti, poco sotto al 2%, beh poi per quanto riguarda il dollaro statunitense, vedete voi insomma. Investire in bond sul mercati emergenti per ora non mi sbilancio insomma. Per concludere il discorso diciamo sull'obbligazionario possiamo senz'altro dire che in tutto il mondo, ecco, i prezzi sono carissimi, forse e anzi molto probabilmente i rendimenti minimi, cioè i prezzi più cari, beh sapete infatti naturalmente della relazione inversa che c'è tra rendimenti e prezzi, cioè se diminuisce il rendimento aumenta il prezzo e viceversa naturalmente. Dicevo comunque quindi che probabilmente i rendimenti più bassi, quindi i prezzi più elevati, li abbiamo alle spalle. Ma questo ovviamente non è che renda allettante quel mercato, cioè probabilmente la diminuzione dei prezzi che stiamo registrando dal mese di agosto tenderà a proseguire, oppure rimarranno pressoché stabili. E riferiamoci allora adesso al mercato azionario, partendo da una considerazione. Warren Buffett, non sto neppure a ricordare chi è Warren Buffett, insomma penso che lo conosciate tutti, circa tre anni e mezzo fa, nel maggio del 2016 per la precisione, si era dimostrato ultra ottimista sulla borsa americana. e tanto per cambiare ha avuto ragione. Il fatto, lo ricordo veramente come fosse oggi, è che i giornali avevano sparato tutti un titolo, non so come definirlo, insomma una bomba. Il titolo era Warren Buffett, due punti, il Dow Jones può arrivare a 100.000 punti. Era il maggio del 2016, il Dow Jones valeva all'incirca 17.700 punti. Quindi il solo pensare che il suo valore potesse sestuplicare era come minimo insensato, insomma. La prima cosa che ho pensato prima di leggere l'articolo era così ad un refuso tipografico. Poi ho pensato che Warren Buffett fosse stato colpito da un Alzheimer pulminante. E poi ho letto l'articolo, insomma. E allora le cose, insomma, un po' si sono ridimensionate. Perché Warren Buffett alla CNBC aveva detto che se i tassi negli Stati Uniti fossero rimasti a zero, come erano in quel momento, il Dow Jones avrebbe potuto arrivare a 100.000 punti nel 2050. Certo, rimaneva una previsione straordinariamente ottimista, però, insomma, rivestiva un carattere diverso. Il fatto è che poco dopo, cioè poco più di un anno dopo, nel settembre del 2017, ne ha sparata un'altra stavolta, veramente. Allora, il Dow Jones non più ha 100.000 punti, ma, statemi bene a sentire, ha un milione di punti. A quel punto ho pensato davvero Warren Buffett ha cominciato a bere. Ma anche lì poi leggo l'articolo. Allora, le previsioni di Warren Buffett in quel caso erano a 100 anni. Ossia Buffett, c'è una previsione che nessuna persona vivente, più o meno, insomma, quasi avrebbe potuto constatare del suo verificarsi, insomma. Però queste previsioni così mirabolanti di Buffett comunque mi servivano per entrare nell'argomento borsa americana. Già oggi, infatti, stiamo assistendo al più lungo periodo di crescita nella storia per quanto riguarda la borsa americana. Allora, la domanda da forse è quanto potrà durare ancora? E la seconda domanda, ma a cosa è dovuto tutto questo? Allora, la prima domanda, quanto potrà durare ancora? Beh, non lo so, e comunque eventualmente ne parlerò successivamente. Mentre si può dire a cosa sia dovuto, o comunque fare un'analisi di questo fatto. Allora, è dovuto essenzialmente a due fatti. Lo straordinario progresso tecnologico dovuto essenzialmente al fenomeno internet, che ha fatto crescere in maniera abnorme alcuni titoli che sono poi quotati sulle borse. Se pensiamo che, ad esempio, soltanto dieci anni fa, Facebook non esisteva nemmeno. È quotata in borsa, infatti, dal maggio del 2012. Che Amazon valeva sempre, dieci anni fa, 100 dollari ad azione, oggi ne vale 1850. Google valeva 230 dollari ad azione, oggi ne vale 1340. Apple valeva 20 dollari ad azione, oggi ne vale 294. Insomma, capite bene perché le borse sono salite in questa maniera. Ma c'è un altro fattore, però, che risulta forse ancora più determinante, ed è proprio la storia dei tassi. Nella storia i tassi non sono mai stati così bassi come in questi ultimi dieci anni. Buffett ovviamente giustifica le sue previsioni, condiziona le sue previsioni proprio al fatto che i tassi rimangano così bassi. E siamo quindi arrivati al nocciolo della questione. Sta avvenendo da anni qualcosa che non era, ripeto, mai accaduto nella storia. I tassi sono bassissimi, diciamo a zero. E questo naturalmente spinge gli investitori ad andare sul mercato azionario. Tuttavia questi tassi a zero non innescano inflazione. Ma attenzione però, se noi intendiamo l'inflazione come aumento generalizzato dei prezzi. Nella realtà però, innescano inflazione, senza però generare un aumento dei prezzi. Perché la pressione sui prezzi è controbilanciata dallo straordinario progresso tecnologico innescato, come abbiamo detto, dal fenomeno internet. Non so che questo sembra un discorso può sembrare un po' complicato, entro certi termini lo è anche. Ma perché? Perché nella realtà l'inflazione può essere causata da un aumento generalizzato dei prezzi, ma quello non è l'unico modo nel quale si manifesta l'inflazione. Perché vedete, la corretta definizione di inflazione è diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Mi fermo qui perché capisco che sto mettendo troppa carne al fuoco. Perché a questo punto ovviamente dovrei far entrare, parlare del nuovo ruolo che hanno assunto, ormai appunto, da una decina d'anni le banche centrali. Un ruolo importantissimo, forse determinante. E allora dovrei dilungarmi ancora. Insomma, avremo occasione comunque davvero, anche in futuro, di trattare questi temi che sono fondamentali per capire quel che sta succedendo sui mercati. Lo so che ora mi state chiedendo, beh, comunque insomma, in fin dei conti, dobbiamo comprarle queste azioni o venderle? Eh, non è che non voglio sbilanciarmi, credetemi, non posso sbilanciarmi. Quello che naturalmente però posso dirvi è che se questa situazione, che come detto, è del tutto anomala, si è verificata per la prima volta nella storia. Beh, se ritenete che questa situazione sia destinata a proseguire, se avete questa convinzione, eh beh, allora investite sul mercato azionale. Se invece ritenete che tutto ciò sia il risultato di una gigantesca bolla, una bolla prima o poi dovrebbe scoppiare, beh, allora è ancora meglio vendere e stare alla larga dal mercato azionale.